Dopo Repubblica anche il Fatto Quotidiano si occupa della battaglia portata avanti da Telemolise contro i nuovi criteri introdotti dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione dei fondi pubblici a sostegno dell'emittenza locale. Il dettagliato articolo pubblicato sul giornale diretto da Peter Gomez ricorda come la legge avrebbe dovuto aumentare la qualità e il pluralismo dell'informazione ma che invece rischia di colpire le emittenti delle regioni più povere e meno abitate. A far scattare il ricorso al TAR del Lazio da parte delle emittenti del gruppo Telemolise curato dagli avvocati Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza il secondo criterio inserito dal governo, quello che prende in considerazione non più il fatturato dell'azienda ma l'audience secondo i dati Auditel che però è scritto nell'articolo del fatto non viene in nessun modo rapportato al numero degli abitanti. è chiaro che una regione piccola come il Molise non potrà mai competere con i dati Auditel della Lombardia. In questo modo le regioni meno abitate saranno sempre svantaggiate dichiarato al fatto l'avvocato Massimo Romano il criterio distributivo che doveva essere uno dei principi ispiratori della legge è venuto meno. Dunque la battaglia intrapresa da Telemolise in difesa del pluralismo dell'informazione e dei posti di lavoro va avanti attirando l'attenzione dei media nazionali perché è una battaglia di civiltà che coinvolge almeno 600 canali televisivi dell'intero paese una galassia che la riforma mette seriamente a rischio. Il 10 gennaio si discuterà la sospensiva del ricorso presentato da Telemolise e dal pool di avvocati molisani.